Santa Gertrude è universalmente riconosciuta come la più grande mistica del secolo XIII. Non conosciamo né il nome della famiglia nel suo paese di origine. Sappiamo soltanto che rimase presto orfane di entrambi i genitori e che entrò nel monastero di Elfta nel 1261 in Sassonia, all'età di cinque anni. L'araldo dell'amore divino, più conosciuto sotto il nome di Rivelazioni, è lo scritto prezioso che ci ha tramandato il ricordo delle grazie mistiche con le quali il Signore si degnò di favorirla. Ed è proprio da questo scritto che attingeremo alla meditazione quaresimale di oggi, mostrando come le nostre buone opere sono tutte contate e come debbano essere compiute in unione alla passione di Cristo. Buongiorno, mi chiamo Samuele Maniscalco. Benvenuti nel canale, gli angeli sono con noi. Cari amici, bentrovati. Oggi è la festa di Santa Francesca Romana, una donna straordinaria che ebbe un rapporto privilegiato con il suo angelo custode. Non ne parleremo in questo video, dal momento che martedì scorso vi ho promesso una meditazione quaresimale, ma vi annuncio già adesso che sarà argomento della prossima puntata. Quindi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ma andiamo al tema di oggi, che è estremamente importante e per il quale dobbiamo ringraziare Santa Gertrude, i cui iscritti consiglio vivamente. Noi oggi estrapoleremo dalla sua opera appena una visione che ebbe di nostro Signore, il quale, egli stesso in persona, insegnò alla santa come unirsi a lui durante la quaresima. Potreste però domandarvi come e quando nascono le sue visioni? Fino al suo ventisesimo compleanno, come risulta dal suo racconto, pare che la vita di Gertrude sia stata divisa fra l'amore allo studio e l'amore per Dio. Nel corso di detto anno, precisamente il 27 gennaio del 1281, alcuni giorni prima della festa della purificazione di Maria, il Signore, che voleva possedere intero il suo cuore, le apparve in una famosa visione che dette alla sua vita un indirizzo deciso. Fu questa la prima grazia mistica alla quale ne seguì un'interrotta serie di favori divini che ebbe termine soltanto con la sua morte, avvenuta il 17 novembre del 1301 o 302, poiché l'anno preciso non lo conosciamo. Il Signore stesso ci informa alla Santa, le ordinò di mettere per iscritto questi favori e di dar loro il titolo di l'araldo dell'amore divino. Rivelare, comunicare, far gustare agli uomini il tesoro racchiuso in questa sorgente, che è il cuore stesso di Cristo. Essere l'araldo dell'amore di questo cuore divino. Ecco la missione che Gertrude sente esserle stata affidata dalla volontà di Dio. E il giorno in cui Gertrude finì di trascrivere le sue rivelazioni, il Signore, apparendole, le disse «Questo libro è mio e lo tengo impresso in fondo al mio cuore. Ivi, ciascuna lettera sia imbevuta della mia divinità, e chiunque a mia gloria lo leggerà con umile devozione, ne ritrarrà frutto per la salute eterna dell'anima sua». Prima di iniziare la nostra meditazione vi racconto brevemente una delle sue visioni. In una vigilia dell'Annunziata, cantando in coro l'Ave Maria, Gertrude vide scaturire improvvisamente dal cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo come tre zampilli che, penetrati nel cuore di Maria Santissima, risalivano alla loro sorgente, ed udì una voce che le disse «Dopo la potenza del Padre, la sapienza del Figlio, la tenerezza misericordiosa dello Spirito Santo, nulla è paragonabile alla potenza, sapienza e tenerezza misericordiosa di Maria». Guai dunque, e questo è un mio commento, guai a quei cristiani che disprezzano la devozione alla Santissima Vergine, come fanno le sette protestanti. Bene, adesso vediamo come le nostre buone opere sono tutte contate e come debbano essere compiute in unione alla passione di Cristo, secondo quanto lo stesso Gesù ebbe a rivelare a Santa Gertrude. La notte seguente il Signore le apparve seduto sul suo trono di gloria. San Giovanni Evangelista, seduto ai suoi piedi, scriveva. Essa, la Santa, gli domandò che cosa scrivesse, ma il Signore, rispondendo invece sua, disse «Faccio diligentemente annotare gli atti di ossequio che ho ricevuti ieri da questa comunità e quelli che ancora riceverò nei due prossimi giorni, affinché, avendo il Padre rimesso ogni giudizio nelle mie mani, io possa ricompensare ciascuna, dopo la sua morte, della pena che si è data per praticare le opere buone. In virtù dei meriti della mia passione e della mia morte, io vi aggiungerò poi una buona misura che ne accrescerà mirabilmente il valore. Poi condurrò l'anima davanti al Padre mio con la somma totale, affinché nella sua potenza e bontà paterna vi aggiunga ancora un altro sovrappiù per gli atti di riparazione che mi avrà offerto in questi giorni, in cui sono tanto offeso dai mondani. Io sono l'amico più fedele e non trascuro di ricompensare coloro che mi hanno fatto del bene». Fermiamoci brevemente su quanto dice Gesù a proposito degli atti di riparazione offerti durante la Quaresima, periodo liturgico in cui avvenne questa apparizione, degli atti di riparazione offerti durante la Quaresima, durante la quale egli è tanto offeso dai mondani, da coloro cioè che si consegnano anima e corpo al mondo e i suoi vizi. Badate che nel XIII secolo c'era certamente una maggiore vita di pietà rispetto ai nostri giorni e soprattutto la società nel suo complesso non offendeva il Signore con leggi che legittimassero come buone, ad esempio, l'immoralità o l'omicidio, perché l'aborto tale è. Pensiamo dunque a quanti atti di riparazione noi, cristiani del XXI secolo, abbiamo il dovere di fare per riparare a queste offese gravi per le quali singolarmente ciascuno di noi verrà giudicato nel giorno del proprio giudizio particolare, perché anche se non siamo stati noi a volerle, anche se le ripugniamo, cosa abbiamo fatto per contrastarle spiritualmente e cosa, a seconda delle nostre capacità, abbiamo fatto per contrastarle anche a livello materiale? Collettivamente, come comunità, invece, secondo quanto insegna Sant'Agostino, verremo giudicati già su questa terra, ricevendo il premio e il castigo corrispondente. Ma riprendiamo la narrazione della visione. San Giovanni, intanto, continuava a star seduto e a scrivere. Qualche volta intingeva la penna in un corno che teneva in mano e tracciava delle lettere nere. Altre volte, invece, l'intingeva nella piaga amorosa del costato di Gesù aperta davanti a lui e tracciava delle lettere rosse che poi ornava di nero o d'oro puro. Essa vide che le azioni dei religiosi che custodiscono le osservanze in uso erano indicate in caratteri neri, come per esempio il digiuno. Il digiuno. Mi fermo un attimo anche qui. Un tempo il digiuno era molto più duro di quello che poi la Chiesa ha stabilito nel secolo scorso. Eppure, anche così, quanti cristiani, quanti di noi, non pongono la giusta attenzione a quest'aspetto? In fondo, si tratta appena di digiunare solo due giorni all'anno. Riprendiamo. Le lettere rosse indicavano le opere fatte in memoria della passione di Gesù, col desiderio amoroso di aiutare la Santa Chiesa. Queste ultime, quando erano ornate di nero, indicavano gli atti compiuti in memoria della passione del Signore, per ottenere la grazia di Dio o altri beni del genere, perché il nero rappresenta ciò che riguarda la salvezza personale. Quando erano invece ornate d'oro, indicavano le opere fatte unicamente a gloria di Dio, per ottenere la salvezza di tutti gli uomini, in virtù dei meriti della passione, rinunciando completamente a ogni merito e ricompensa personale per offrire a Dio un puro omaggio di amore e di lode. Le prime sono largamente ricompensate, ma queste ultime hanno un merito e una dignità molto più grandi e giovano assai più all'eterna salvezza dell'uomo. Vedete, l'importanza della gratuità delle opere fatte esclusivamente a gloria di Dio per ottenere la salvezza di tutti gli uomini. E invece noi quante volte, magari anche io stesso, quante volte abbiamo fatto delle opere più spesso per noi stessi che per la salvezza di tutti gli uomini? Eppure queste ultime hanno un merito e una dignità molto più grandi e giovano, come dice la Santa, assai più, o meglio nostro Signore, assai più all'eterna salvezza dell'uomo. Essa la Santa vide che restava uno spazio vuoto fra due colori diversi e domandò al Signore a cosa ciò volesse dire. Egli rispose, voi siete solite in questi giorni rivolgermi tutti i vostri desideri e le vostre preghiere in memoria della mia passione, e io ho fatto diligentemente prendere nota di tutti i pensieri e di tutte le parole che mi rivolgete, ma gli spazi vuoti indicano che non fate sempre anche le vostre opere in memoria della mia passione. E come dobbiamo allora comportarci, Signore amatissimo, riprese la Santa, per esserti gradite? Il Signore rispose, dovete unirvi alla mia passione anche nei vostri digiuni, nelle vostre veie e in tutte le altre osservanze regolari. Inoltre, quando mortificate i vostri sensi, dovete sempre farlo in unione dell'amore con cui ho mortificato i miei nell'ora della mia passione. Con un solo sguardo avrei potuto abbattere tutti i miei nemici. Dunque, mia bravissima considerazione, Cristo ha dai nemici e quindi per riflesso anche la Santa Chiesa. Teniamolo bene a mente per non cadere in falsi renismi che sovente ci fanno chiudere gli occhi davanti alle gravi offese con cui è oltraggiato il Sacro Cuore. Con un solo sguardo avrei potuto abbattere tutti i miei nemici e, con una sola parola, convincere tutti i miei contraddittori. Invece, come un agnello condotto al macello, ho tenuto il capochino e lo sguardo abbassato, e non ho aperto la bocca davanti al giudice per difendermi, anche con una sola parola, da tutte le false accuse che mi opponevano. Gertrude disse allora, oh ottimo fra i maestri, degnati di insegnarmi una pratica in onore della tua passione. E qui il Signore stesso ci insegna una pratica a lui molto gradita. Il Signore rispose, prega con le braccia aperte per presentare a Dio Padre un'immagine di questa mia passione e offri la tua preghiera per la Chiesa Universale, in unione all'amore con cui ho steso le braccia per essere crucifisso. E Gertrude, chi adotterà questa pratica dovrà nascondersi in qualche luogo perché non è uso pregare in questo atteggiamento. La cura di cercare il luogo ritirato per pregarmi, disse il Signore, mi sarà già molto gradita e aumenterà il valore dell'atto stesso, come una pietra perziosa accresce il pregio di un monile. Poi aggiunse, chi si abituasse poi a pregare in pubblico con le braccia aperte, senza rispetto umano, osservate bene, senza rispetto umano, una specie di cancro spirituale che ci paralizza quando è l'ora di confessare pubblicamente la nostra fede, difendendola magari da qualche atto blasfemo, senza avere la minima preoccupazione di cosa penseranno di me gli altri, ma preoccupandomi solo della gloria di Dio. Chi si abituasse poi a pregare in pubblico con le braccia aperte, senza rispetto umano, mi procurerebbe un onore pari a quello che si rende al re il giorno della sua intronizzazione. Alle intenzioni e alle preghiere che erano annotate sul libro da San Giovanni, veniva ancora aggiunto il nome della persona che col suo consiglio ed esempio aveva indotto le altre a recitare queste preghiere. È questo per effetto dell'infinita bontà di Dio che si compiace di remunerare doppiamente il poco che la nostra debolezza umana cerca di offrirgli con semplicità. Importante è quest'ultimo aspetto per arricchire i nostri meriti davanti al Signore. Dobbiamo dare l'esempio e indurre gli altri a fare lo stesso. Le parole possono anche essere convincenti, ma solo l'esempio trascina. Quale esempio diamo ai nostri parenti, ai nostri figli, ai nostri amici, alle persone che lavorano con noi? Non vale la pena sapere tutto questo? E non è forse un obbligo morale che anche altre persone ne vengano a conoscenza perché la loro vita di pietà prenda il volo? Non perché lo dice Samuele Maniscalco, che è un nessuno, ma perché ce lo dice nostro Signore morto in croce per noi? Il nostro cuore sarà così sordo da non dargli ascolto? Ma, vi chiedevo, non è forse un obbligo morale che anche altre persone vengano a conoscenza di queste cose? Personalmente è quest'obbligo che mi spinge a fare questi video ed è quest'obbligo che mi spinge a chiedervi di unirvi a me in questa crociata d'amore, unirvi spiritualmente ma anche materialmente. Uno dei mezzi che più utilizzo per far aggiungere a un pubblico più ampio questi video sono proprio i social network. Per farlo però è necessario investire delle risorse. Come fare? Da una parte voglio ringraziare quanti tra voi hanno già aderito al mio invito di far parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli per aiutare quest'opera con un contributo fisso a seconda delle proprie possibilità. A proposito, sia in descrizione che nel primo commento trovate il link per scoprire di cosa si tratta. Dall'altra rivolgo il mio invito a quanti ancora non l'hanno fatto ma ne hanno la possibilità. Li invito a iscriversi oggi stesso. Ci sono diversi benefici per chi si iscrive ma io credo il maggior beneficio sarà quello di partecipare attivamente per espandere questo apostolato e fare del bene alle anime, alle povere anime del nostro tempo, spesso smarrite o persino abbandonate da chi dovrebbe prendersene cura. Cliccate sul secondo link che trovate in descrizione oppure nel primo commento ed entrate oggi stesso nel gruppo Apostoli dei Santi Angeli. Terminiamo adesso la visione di Santa Gertrude. Essa disse allora, o Signore perché avete mai scelto Giovanni per trascrivere queste cose e non piuttosto San Benedetto al cui ordine appartiene il nostro monastero? Il Signore rispose ho scelto San Giovanni a questo ufficio perché è il discepolo che ha scritto di più sull'amore di Dio e del prossimo. Egli è ben degno di fiducia e saprà compiere esattamente a vostro vantaggio i disegni della mia divina liberalità. Il mercoledì seguente, quando essa, cioè Gertrude, si presentò al Signore in nome della Santa Chiesa, e cioè con lei e per lei, per offrirgli il sacrificio della espiazione quaresimale, egli l'accolse per sua bontà con tanta gioia che essa conobbe per esperienza all'amore di Cristo verso la Chiesa, sua sposa in nome della quale si presentava a lui in quel momento. Bene, cari amici, il nostro viaggio termina qui. Spero che abbiate potuto apprezzare questa meditazione. Vi ricordo sempre che potete scrivermi nei commenti le vostre impressioni, cosa ne pensate, se conoscevate questa santa così affascinante, se volete suggerirmi qualche tema, eccetera. Se poi avete necessità di contattarmi via email, scrivetemi a gliangeli sonoconnoichiocciolagmail.com. Vi metto l'indirizzo sia in descrizione che qui in sovraimpressione. Copiatelo bene perché potreste fare confusione. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a questo sabato quando parleremo del rapporto di Santa Francesca Romana con il suo Angelo Custode. Che Dio vi benedica! Grazie a tutti!